Il maltempo continua ad imperversare sulla Campania. La protezione civile regionale ha prorogato fino alla mezzanotte di domenica l'allerta meteo con criticità gialla. Situazione particolarmente difficile su tutto il territorio. Nel Casertano l'esondazione del Volturno ha provocato danni ingenti all'agricoltura. 800 ettari sott'acqua secondo le stime del consorzio di bonifica che preannuncia un'altra piena seppure di minore entità. I vigili del fuoco sono intervenuti a capua per soccorrere diverse famiglie bloccate in casa con bimbi piccoli e senza corrente. Ad Ischia evacuate quasi 500 persone dalle aree più a rischio di Casa Micciola mentre la mareggiata della scorsa notte ha letteralmente sommerso il borgo di Ischia Ponte. E la forza delle onde ha provocato danni ingenti anche in costiera amalfitana. Bilancio pesante a marina di Vietri sul mare. Il mare è arrivato quasi sotto le case dei cittadini nella frazione di marina distruggendo e travolgendo quello che trovava lungo il suo percorso. I danni più ingenti li hanno avuto alcune attività commerciali stabilimenti che si sono proprio fronte mare. Quantificiamo appunto un danno tra i 250 e i 300 mila euro. A Pagani sono crollate due abitazioni disabitate nel centro storico. Nessun ferito ma in via precauzionale si è deciso di evacuare alcune persone residenti nelle vicinanze. Sempre nel Salernitano, disagio alla circolazione ferroviaria, resta ancora interrotto il tratto battipaglia potenza tra lo scalo di Romagnano e Buccino. Tecnici di RFI al lavoro ma intanto si registrano ritardi e disagi.